A 9 mattina alle 12 abbiamo avuto 84 accessi. Non c'è struttura che possa reggere a 25 persone l'ora per 3 ore di fila. Quasi 300 persone il 27 dicembre si sono presentate al pronto soccorso dell'ospedale San Donato di Arezzo. Oltre 220 invece nel giorno di Natale 236 in quello di Santo Stefano. Afflussi dunque record che superano i ben il 30% i dati ordinari. Si verifica ogni volta ci sono ponti prolungati con chiusure soprattutto degli ambulatori, dei medici di famiglia. E questo ha determinato ovviamente una sofferenza del pronto soccorso perché sia le strutture sia i reparti non sono stati in grado di accogliere le persone che avevano necessità di ricovero. Non c'è una soluzione. Ci sono una serie di accorgimenti che possiamo mettere in campo. Per ora abbiamo bloccato i cosiddetti ricoveri programmati. Abbiamo poi attivato altre risorse aggiuntive per gli infermieri che sono in un numero maggiore. E per quanto riguarda i posti letto abbiamo già un piano per aumentare i posti letto non tanto di degenza quanto di hobby, cioè di osservazione breve. Altro problema registrato è quello relativo alla carenza di barelle. In certi momenti proprio non abbiamo dove posare i soggetti. Abbiamo in ordine un certo numero di barelle in più. Ci sono tempi burocratici che sfugono alla mia comprensione ma bisogna accettare per quello che sono. Giorni dunque impiegnativi e numeri impressionanti anche se in realtà il peggio deve ancora arrivare. Il vero e proprio picco influenzale è infatti previsto tra la fine dell'anno e l'epifania. Quindi per quell'epoca avremo appunto già in campo l'aumento dei posti letto di hobby. E quindi speriamo di riuscire a combattere questa situazione.